Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, in direzione Roma per traffico intenso, code tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e in uscita a Firenze Sud. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto e Firenze Peritola, code a tratti tra Prato Ovest e il Biglio per la 1. Sulla Fipili rallentamenti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci, in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, in via della stufa per lavori, chiusura del tratto Piazza San Lorenzo via Taddea. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!